Radio Radicale, siamo con il senatore Fazzalari di Fratelli d'Italia, membro della commissione delle politiche dell'Unione Europea di Palazzo Madama, per parlare dello scontro che si sta profilando sull'oro della Banca d'Italia. Lo scorso 6 febbraio fu proprio Fratelli d'Italia, come primo gruppo parlamentare, a presentare una mozione su questo tema, poi seguito dalle opposizioni e dalla maggioranza, e questa settimana si discuterà di questo qui a Palazzo Madama. Allora, perché avete voluto sollevare questo tema? Ricordiamo che in più di un'occasione alla Camera, Giorgia Meloni aveva sottolineato questo aspetto, secondo molti, poco chiaro sugli assetti proprietari dell'oro di Banca d'Italia. Cosa chiedete e a chi appartiene quest'oro? Sì, in realtà Fratelli d'Italia dà molto tempo, perché è, come ha ricordato lei dalla precedente legislatura, che tentiamo di ribadire che l'oro detenuto e gestito dalla Banca d'Italia è di proprietà dello Stato e del popolo italiano. Le dico che questa che ho appena detto, ed è il testo della nostra mozione, non è una nozione innovativa, è una banalità. Questo stesso concetto, e cioè la Banca centrale detiene e gestisce l'oro di proprietà dello Stato, è una legge, ad esempio, dello Stato francese, fin dal 2001, in occasione proprio dell'entrata nell'Eurozona, e sul sito della Banque de France è direttamente riportato il testo di legge, questo che le ho appena detto, e in aggiunta viene fatta questa simpatica proporzione, nella quale viene detta, di conseguenza, ogni singolo francese è indirettamente possessore di 38 grammi d'oro. Pochi giorni fa, anche il governatore della BCE, Mario Draghi, rispondendo a delle interrogazioni di europarlamentari proprio sulla proprietà delle riserve auree, ha ribadito esattamente lo stesso concetto. Draghi ha dichiarato, le banche centrali detengono e gestiscono l'oro di proprietà degli stati. Quindi Fratelli d'Italia, in realtà, sta, dice, chiedendo che anche in Italia sia formalizzata questa ovvietà, che è già così in tutti gli stati dell'Eurozona, ed è talmente una ovvietà che anche il governatore della BCE lo dice in modo esplicito. E' quindi inutile? No, perché la Banca d'Italia, nel proprio sito, scrive che le riserve auree sono di proprietà della Banca d'Italia, ma questo non ha nessun riscontro normativo, né nazionale né europeo. Si è via via, nell'arco degli anni, creata, forse volutamente, una confusione proprio su questo. Tanto che oggi ci chiediamo di chi è questo oro e una confusione che in Francia non c'è, che in tutto il resto d'Europa non c'è, che nella BCE non c'è, c'è solo in Italia, dove noi oggi ci ritroviamo di conseguenza una situazione nella quale abbiamo una banca centrale che ha degli azionisti per la quasi totalità che sono banche private, che dice di possedere l'oro della patria e poi chiarisce che quell'oro non è nella disponibilità degli azionisti, ma lo dice a voce, non c'è una legge, non c'è un'espressione esplicita da parte del Parlamento. E ogni volta, sia con le dichiarazioni dei membri della Banca d'Italia, ma anche recentemente da parte del Premier Conte, che rispondendo a una interrogazione di Fratelli d'Italia ha alimentato ulteriormente questo equivoco, dicendo che le riserve aure sono di proprietà della Banca d'Italia perché sono sempre stati iscritti all'attivo della Banca d'Italia. Ma anche questo, basta vedere che cosa succede oltre Alpe, sempre la legge francese, chiarisce anche questo aspetto. Allora, se il Ministro del Tesoro, che sarebbe il Ministro dell'Economia, dovesse decidere di dare l'oro in garanzia come venne fatto negli anni 70, credo in Germania, ti ricorda, vennero portati i lingotti, non so dove, i lingotti d'oro della Banca d'Italia, non potrebbe farlo come autorità di governo? Punto interrogativo. Ecco, anche questa è un'ottima domanda, a oggi si sta provando a sostenere che la proprietà dell'oro è di Banca d'Italia e quindi non è nella disponibilità dello Stato, chiariamo anche questo. Però il Governo non potrebbe fare delle cose come delle iniziative come vennero fatte negli anni 70 su disposizione del Ministro, adesso non so chi era all'epoca il Ministro del Tesoro, forse Guido Carli, di Governatore Baffi, allora non si ricorda come venne trattata la questione? No, allora come venne trattata la questione non me lo ricordo. All'epoca però non c'era il problema connesso alla natura di Banca Italia. Banca Italia ha sempre avuto come azionisti le banche, ma fino alla riforma degli anni 90 le banche erano soggetti pubblici, di conseguenza azionisti pubblici che detenevano proprietà della Banca d'Italia e quindi potevamo risalire quanto volevamo alla catena, sempre pubblico era quell'oro. Ho capito, oggi siamo in una gestione mista. Adesso abbiamo una situazione anomala, proprio per questo nel 2014 in occasione della rivalutazione di Banca Italia, Giorgia Meloni chiese, bene, è stata fatta questo ulteriore intervento su Banca Italia, adesso le quote vengono rivalutate, le quote sono di privati, mettiamo nero su bianco che l'oro è dello Stato. Anche su questo ci tengo a precisare, per fratelli d'Italia, l'oro è un bene demaniale inalienabile, per noi è come il Colosseo, nessuno ha intenzione di utilizzare l'oro per esigenze di bilancio. Ciò non toglie che il Colosseo appartiene allo Stato e al popolo italiano e così le riserve aure appartengono allo Stato e al popolo italiano. Sì, allora, politicamente, su quello che state facendo, voi fate una cosa per chiarire la questione e per rendere pubblica questo bene. Allora, voi siete all'opposizione, però lei, per esempio, si fiderebbe di lasciare quest'oro al Movimento 5 Stelle, non dico alla Lega con la quale siete alleati in tante circostanze, ma al Movimento 5 Stelle? È una domanda, non è una polemica. Sì, sì, no, noi fratelli d'Italia siamo dei patrioti, cioè l'oro della patria è della patria, è la patria per noi, è la patria anche se governa, che è più distante da noi politicamente, per noi la patria anche quando è governata dal centro-sinistra, se domani dovesse essere governata da un neonato partito maoista, per noi sempre la nostra patria sarà e quindi figuriamoci. Speriamo di no. Speriamo di no, però per noi, il nostro difendere la patria non dipende da chi la governa, chiunque la governa per noi è da difendere, però è l'occasione in realtà per dire che troviamo gravissimo che la mozione presentata dalle forze di maggioranza e quindi da Lega e Movimento 5 Stelle collegata alla mozione di Fratelli d'Italia dice tutt'altro rispetto a quello che diciamo noi. Questa che è una battaglia che viene condotta abitualmente sui media, sui social in ogni occasione nella quale entrambi, Lega e Movimento 5 Stelle dicono che l'oro è degli italiani, adesso però in Parlamento, mercoledì, si smentiranno bocciando la proposta di Fratelli d'Italia e approvando una loro mozione che non dice nulla. La mozione della maggioranza presentata da Lega e Movimento 5 Stelle dice impegna il governo a stabilire la proprietà delle riserve auree, in sostanza dice governo con calma dici tu di chi sono le riserve auree. Ho capito, la solita tattica attendista. Esatto, è quello là in sostanza, così come abbiamo visto in altre circostanze, penso in particolare al Global Compact, per non affrontare la questione, buttare la palla avanti e vedere prima o poi affronteremo il problema, ma a oggi purtroppo il timore è che mercoledì la mozione di Fratelli d'Italia sarà bocciata da Partito Democratico, Lega e Movimento 5 Stelle e sarà approvata una mozione di maggioranza che non dice nulla, ma che sarà sufficiente per poter, in un tema così complicato, poter continuare nelle occasioni in televisione, sui social, eccetera, a ribadire che invece questa è una battaglia che viene condotta. Bene, io la ringrazio per i chiarimenti che ci ha fornito, per averci un po' spiegato quella che è stata la prima mozione che in realtà ha affrontato la questione, ringrazio il senatore Fazzalari di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Politica Europea di Palazzo Madama. Grazie.